Due a sparare, gente addestrata. Se non li becchiamo nelle prossime tre o quattro ore, spariscono. Dai registi di Avengers Endgame. Chi può spostare 300 chili di coca? Come pensi di fare? Chiudiamo l'isola. Con il protagonista di Black Panther. Eri il più coraggioso. Quello che vendica i poliziotti uccisi. Non perdere il film più adrenalinico dell'anno. È mio! Sei molto bravo. Lo so. City of Crime. Dal 9 gennaio al cinema. Il 4 gennaio al cinema.